Dal punto di vista delle misure di contenimento, che è un discorso delicatissimo perché contenimento del contagio naturalmente, perché il Paese si è diviso sostanzialmente diciamo così in due fazioni come spesso capita in Italia e cioè da una parte le misure di contenimento sono eccessive, da quell'altra le misure di contenimento invece dovrebbero essere potenziate. Per quanto riguarda diciamo l'obiettivo della salute pubblica, lei che cosa pensa? Poi dopo ci sono tutti diciamo i discorsi, le riflessioni sull'economia. Rimaniamo sempre sui nostri passi, su quanto abbiamo detto anche la volta scorsa, cioè vale a dire che sono assolutamente indispensabili e forse perché si parla un po' da più parti si sente dire che ne avremo ancora per una, alcuni dicono ne avremo ancora per due settimane, non è possibile fare queste previsioni, sicuramente il tempo diciamo che è trascorso dal periodo di incubazione del famoso paziente 1 si sta allungando e questo va a nostro favore. Quindi non possiamo però parlare di giorni e dare una stima precisa, però l'Istituto Superiore delle Sanità adesso si è messo all'opera per fare delle indagini epidemiologiche molto sofisticate e quindi sta emergendo che in Cina i contagi sono ridotti e anche un po' la mortalità. Allora sulla base di queste misure di contenimento preventive che abbiamo anche noi attuato e si deve dire, bisogna dire che le abbiamo attuate in maniera assolutamente esemplare, l'Italia ha adottato delle misure esemplari da questo punto di vista, anche il nostro Teneo ricalca quello che è stato fatto, ha fatto il nostro retore, chiuso degli Atenei, chiuso delle scuole pubbliche, dovrebbero essere chiuse forse ulteriori luoghi dove c'è assembramento perché questo ovviamente va a svantaggio insomma dei provvedimenti che sono stati presi. E questo diciamo il pericolo vero oggi, per evitare il contagio? Tenere la gente separata, questo è diciamo il take home message, tenere la gente separata. Cioè vale a dire, chi sta a casa ha la tosse, c'è il raffreddore, cercare di, se deve proprio uscire, esca, faccia le sue commissioni, la sua spesa e poi ritorni a casa. Chi ha 65 anni, over 65, ha questi sintomi, in teoria non dovrebbe uscire. Chi sta, chi ha oltre i 75, è vero anche per quelli che hanno i 65, ma comunque con comorbidità importanti per i quali un'infezione da coronavirus potrebbe rappresentare probabilmente il colpo di grazia per questi pazienti, non dovrebbero uscire e stare a casa. Quindi una sorta di autocontenimento dell'infezione, chiamiamolo quarantena, perché comunque la quarantena è il metodo più utile che noi abbiamo, di cui noi disponiamo oggi per contenere l'infezione. Non ci sono altri metodi. Ecco parliamo di quello che è successo in regione, no? La giunta regionale ha scoperto da ieri sera che due assessori sono risultati positivi al tampone e quindi tutti gli altri assessori che si sono fatti controllare, sono risultati negativi, per cui come dire immediatamente i due assessori dovranno fare la quarantena a casa loro, perché in questo momento non hanno sempre... E un autoisolamento fiduciario, si chiama autoisolamento fiduciario, andrà l'igiene pubblica a verificare se loro lo rispettano, perché questo è un esempio importante che ha dato l'Emilia Romagna, l'igiene pubblica che interviene allo scopo di verificare se c'è stato appunto il rispetto di queste norme. Comunque lo vogliamo ripetere ancora, bisogna evitare secondo le prescrizioni, diciamo, delle varie autorità e decisori politici che sono state suggerite dagli esperti, diciamo, quindi dagli uomini di scienza, bisogna evitare di stare in luoghi... Bisogna evitare questo, ci vuole più coscienza da parte dei cittadini, perché non si sta chiedendo a nessuno di applicare il carcere duro, ma soltanto un isolamento necessario per non propagare l'infezione. Per tante cose, come lei ci ha detto anche la volta scorsa, come stiamo vedendo, c'è chi dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'istruzione, della formazione, dal punto di vista poi dell'intrattenimento, lo vediamo, insomma, siamo dotati tutti di mezzi altamente tecnologici e sofisticati, si può ricorrere così come la televisione, internet ci mostrano, diciamo, di tutto, per l'intrattenimento, per l'informazione, si può ricorrere al telelavoro. Per quanto riguarda anche le assemblee politiche, bisogna stare un po' più attenti, non credo... Non farne. Non farne. C'è la possibilità, lei ci diceva che ieri eravate in videoconferenza con altri atenei... C'è una conferenza con degli esperti della regione che ci hanno appunto raccontato lo stato dell'arte dell'impiego di questi nuovi farmaci per il trattamento della malattia da Covid-19 e che, insomma, noi eravamo spettatori, abbiamo assistito a quello che hanno detto e quindi con molti interessi. Quindi la comunicazione circolata, può circolare senza rischi.